Ciao ragazzi, diamo il nome a questo composto. Prima cosa da fare è individuare la catena più lunga di atomi di carbonio contenente il gruppo funzionale, in questo caso il gruppo funzionale è il triplo legame, ed è facile vedere che la catena più lunga è proprio questa. Bene, contiamo quanti atomi di carbonio, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, quindi hept, heptino, perché c'è il triplo legame, e al triplo legame devo assegnare il numero più basso possibile. In questo caso è facile capire che qui è 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, quindi avremo un derivato dell'1, heptino. Poi vedo in 7 un cloro e in 4 questo sostituente qui. Ora, questo è un sostituente ramificato, e per i sostituenti ramificati, diciamo semplici, spesso si utilizza la nomenclatura tradizionale. Infatti, questo qui, se noi andiamo a contare quanti atomi di carbonio ci sono, noi abbiamo 1 qui, 2, 3 e 4, e questo sostituente in particolar modo si chiama terzbutyl, quindi io sull'atomo di carbonio 4 avrò un terzbutyl. Vi ricordo che però, in questo caso, nel terzbutyl, noi non dobbiamo tenere conto della t, quindi il prefisso terz non viene contato nell'ordine alfabetico, quindi io devo considerare la b di terzbutyl, d'accordo? Per cui, ora che andiamo a dare il nome, dobbiamo tener conto della b, per cui partiamo proprio da 4 terzbutyl, magari per ricordarmi, non lo metto fra parentesi ma giusto per ricordarmi questo concetto, poi 7 cloro, 1 eptino.